Un investimento che stiamo concludendo di 25 milioni di euro, noi portiamo la banda larga dappertutto, anzi approfitto anche della vostra trasmissione per dire a tutti quelli che abitano in piccoli centri dove non ci fossero, anche in centri più grandi di segnalarcelo, la portiamo in tutte le fazioni, in tutti i comuni, in tutti i piccoli paesi, anche nel nostro entroterra perché le imprese, le famiglie, i ragazzi, le attività commerciali, la pubblica amministrazione ormai devono usare questa possibilità per i tanti vantaggi che possono avere, per le tante utilità che questa può avere. In Liguria abbiamo 500 agriturismi e che soprattutto la clientela estera dei paesi nord ci sono abituati ormai a collegarsi in tutti gli alberghi, gli agriturismi, i bed and breakfast che ci sono nelle zone turistiche di accoglienza e quindi se l'entroterra oggi, quindi gli agriturismi che sono collocati per la stragrande maggioranza nell'entroterra possono dare questo servizio è già un punto a nostro favore. Inoltre la banda larga consente anche alle imprese agricole di avere dei collegamenti veloci e di metterli alla pari con le aziende che sono sulla costa, consentendo quindi uno sviluppo economico anche nell'entroterra perché ormai il futuro di collegamento e la velocità di comunicazioni sono la cosa più importante nel lavoro quotidiano. Ecco perché la banda larga è stata finanziata anche dal Fondo Sviluppo Rurale e abbiamo soprattutto per le zone numericamente anche poco appetitose dal punto di vista dei canoni e dell'economia e delle imprese del settore. Noi di questo siamo molto orgogliosi, siamo una delle primissime regioni d'Italia che hanno fatto questo e continueremo a lavorare sulla tecnologia per far sì che anche un abitante del nostro entroterra non sia svantaggiato rispetto ad un abitante della città.